Ya lo so. Rocco sta registrando? No. Guarda a me. Si. Sei in Grecia mi parlo. Ellast rally. Rally dell'inferno che cos'è? No. Ellast vuol dire Grecia. Ellast vuol dire Grecia? Ellast. Ellast. No, no, no. Io avevo capito. Ellast gate. Eh, hai capito? No. 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 Grazie a tutti. 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 Andiamo... la vedo. e... merda... ... ... ... no... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ...... ...... ... 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 ...... ... Grazie a tutti 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 Grazie a tutti